GF VIP7, Giorgio Ciupilan svela inaspettatamente Vippona a cui era interessato nella casa. Giorgio Ciupilan è stato ospite di Silvia Toffani nel Salotto di Verissimo, il talk pomeridiano dell'weekend in onda su Canale 5. L'ultimo eliminato del grande fratello VIP7 è tari esordito dicendosi ancora scombussolato dall'esperienza televisiva appena conclusa. Sono ancora un po' estraneo alla vita normale. Mi fa strano parlare con persone nuove, ha detto Giorgio. Un'occasione, per il tiktoker, di parlare nuovamente della sua difficile infanzia. Nato in Romania, i suoi genitori si sono separati quando Giorgio aveva solo un anno d'età. Ha quindi vissuto con la nonna in un piccolo paese fino a quando il padre lo ha portato con sé. Ad 8 anni ha rivisto la mamma, che lo ha portato via, di nascosto, perché aveva capito la situazione. sugli esordi nel mondo dello spettacolo, dai collegio alla caserma, che lo hanno portato al grande fratello VIP. Giorgio ha poi spiegato il significato del tatuaggio che ha sulla caviglia. 30, 02, 2022. Il giovane ha quindi sottolineato di voler ricucire i rapporti con il padre, che ha avuto modo di incontrare dopo tanto tempo al GF VIP. Infine, Giorgio ha rivelato di aver provato interesse per una concorrente del reality. iscriviti. Grazie a tutti.